Il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con questa formula il tribunale di Caltanissetta ha assolto un commerciante nisseno accusato di avere violato le disposizioni previste dal bonus cultura che era stato approvato negli anni scorsi dal governo Renzi. In particolare il commerciante, secondo quanto emerso dalle indagini di procura e guardia di finanza, aveva consentito ad alcuni studenti di acquistare dispositivi quali smartphone e tablet invece di materiale didattico, così come previsto dal bonus cultura. Nel corso delle indagini era scattato anche il sequestro di alcuni beni e conti correnti per quasi 330 mila euro, anche se poi l'importo dei beni sequestrati era stato ridotto a seguito dei ricorsi presentati dalla difesa. La procura aveva chiesto la condanna dell'imputato a otto mesi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Laspina, legale di parte civile per conto del governo nazionale, aveva chiesto il risarcimento dei danni. Su tutt'altra lunghezza d'onda gli avvocati difensori Giuseppe Pane Pinto e Giuseppe Di Buono, i quali, nel chiedere la soluzione del loro assistito, hanno sottolineato come il commerciante avesse sempre regolarmente presentato tutta la documentazione relativa al suo lavoro, dalla quale emergeva che nel novero degli acquisti da effettuare erano previsti anche quelli dei libri elettronici, gli e-book e dei relativi dispositivi per leggerli, quali appunto computer, smartphone e tablet. I difensori hanno anche evidenziato come la vicenda, chiusasi con una soluzione, abbia segnato la vita del commerciante, che è stato costretto a chiudere l'attività a seguito dei sequestri e a licenziare otto dipendenti.